Ciao Sparks! Prima che tu affronti quei terribili gamberi, sarà il caso che ti dia qualche consiglio. Per cominciare, alleniamoci nel tiro. Premi attacco per sparare ai bersagli. Puoi anche muoverti velocemente premendo carica, proprio come Spyro. Usa la carica per inseguire questo nemico. Ora viene il difficile. Essendo un'agile libellula, puoi anche sparare mentre ti sposti lateralmente. Tieni premuto rotola a sinistra o rotola a destra, quindi muoviti. Usa questa tecnica per cercare di colpire i bersagli in questa stanza. Mi hai sentita, Sparks? Ti ho detto di spostarti lateralmente per colpire quei gamberi. Se non... Durante i tuoi viaggi troverai delle farfalle che ti daranno salute. Proprio come nel mondo dei draghi. Non solo, alcune farfalle ti daranno dei poteri speciali, anche se temporanei. Non devi far altro che mangiare una farfalla speciale e premere salto per usare il potenziamento mostrato in alto a destra sullo schermo. Bene, Sparks, direi che sei pronto. Se hai bisogno di assistenza, seleziona... Sparks, direi che sei pronto. Sparks, direi che sei pronto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.